Si è svolta stamani a Roma presso la sede del Ministero dell'Economia la conferenza di servizio convocata per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione relativo alla realizzazione dell'elettrodotto denominato collegamento in corrente alternata a 220 kW Italia-Malta. All'importante riunione ha preso parte anche il commissario straordinario Margherita Rizza accompagnata dal dirigente del settore assetto ed uso del territorio Michele Scarpulla. Presenti tra i numerosi convocati anche l'ambasciatore di Malta in Italia, Carmel Inguanez, i rappresentanti dell'assessorato all'industria d'energia della regione siciliana, il superintendente beni culturali di Ragusa Alessandro Ferrara, il dirigente del settore viabilità, concessione ed espropriazioni della provincia regionale di Ragusa Carlo Sinatra. Nel corso della conferenza di servizio è stata esposta la decisione del comune di Ragusa con l'espressione del parere favorevole sottoposto ad una serie di condizioni alla realizzazione dell'elettrodotto, così come indicato nella deliberalizzazione del Consiglio Comunale numero 7 del 21 gennaio scorso. Le prescrizioni indicate dal comune di Ragusa sono state tutte accolte, così come accolta è stata anche la richiesta di compensazione pari a 600.000 euro per un intervento di riqualificazione di un'area in prossimità dell'ex depuratore di Marina di Ragusa.